Paolo Ciavarro e Clizia in Corbaia, una coppia innamorata e affiatata, trascorrono quest'estate in barca, tra le meravigliose coste italiane. La loro vacanza, che unisce il relax estivo e un'atmosfera da luna di miele, si svolge interamente in Italia, scelta dettata dal desiderio di rimanere vicini a Eleonora Giorgi, madre di Paolo e grande amica di Clizia, impegnata nella sua battaglia contro la malattia. Paolo, 32 anni, e Clizia, 43, si sono sposati lo scorso 12 luglio a Forte dei Marmi, dopo essersi conosciuti nel 2020 nella casa del grande fratello Vip. Durante questa crociera, la coppia è accompagnata dai figli, Nina, nata dal precedente matrimonio di Clizia con Francesco Sarcina, e il piccolo Gabriele, frutto dell'amore tra lei e Paolo. Questi giorni in mare raccontano il loro desiderio di stare insieme e riprendersi cura degli affetti più cari, senza allontanarsi troppo da Eleonora. La madre di Paolo, sempre presente e sostenitrice del loro amore fin dall'inizio, è stata un pilastro fondamentale nella loro vita. A settembre, Paolo tornerà a lavoro con la trasmissione Forum, mentre Clizia potrebbe essere coinvolta in un nuovo progetto televisivo. Tuttavia, per ora, il loro tempo è dedicato a godersi il mare e l'amore che li unisce.